Emergenze e incendi dopo una domenica infernale con più di decine di roghi di vegetazione scoppiate a Marina di Grosseto, Castiglione della Pescaia e Capalbio. Al momento le località più colpite e molte altre zone della Toscana come Torre del Lago, Montale e Piancastagnaio, la regione sta mettendo a punto una serie di misure di prevenzione specifiche. A fare il punto sull'efficacia del sistema antincendi regionale l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni collegata in videoconferenza con il prefetto e il sindaco di Grosseto, il primo cittadino di Capalbio e i rappresentanti delle forze dell'ordine. La situazione è critica. Il vento di ieri è stato un vento molto fastidioso per tutto quello che riguarda questo tipo di azioni e di attività. Non a caso ieri abbiamo registrato una giornata particolarmente critica sul fronte degli incendi. Oggi perlomeno il vento è un po' attenuato, speriamo che la giornata sia migliore ma purtroppo già questa mattinata è stata particolarmente intensa. La regione sta valutando l'eventualità di un presidio organizzato nelle aree maggiormente a rischio contando sulla risorsa dei volontari dell'antincendio boschivo. E poi nuove strade tagliafuoco, una migliore manutenzione dei boschi ma non solo. Credo anche che si debba lavorare molto sulla dotazione dei mezzi. In Toscana abbiamo fatto il nostro compito perché abbiamo 11 elicotteri, abbiamo tante squadre, il coordinamento. Mi pare che forse a livello nazionale ci sia bisogno di rivedere alcuni punti. Il passaggio della forestale ai carabinieri, come denunciato anche da Rossi, ha forse fatto in qualche modo allentare l'attività di presidio sui territori e dall'altra parte anche la dotazione proprio di mezzi fisici. Noi ieri avevamo due canadere in azione e forse ne servivano anche altri. La regione ha richiesto ai sindaci di Grosseto, di Capalbio e di Castiglione della Pescaia un censimento dei danni subiti dai privati e dal patrimonio boschivo per procedere con richiesta dello stato d'emergenza regionale e poi nazionale. Istanza avanzata anche dagli stessi sindaci.